Ciao a tutti, sono Francesco con Frankie Labs e oggi vorrei rivolgere il Castor Myonix, un mouse di gioco in strada. Iniziamo! Dopodiché aprivate il pacchetto, comprendete il significato del slogan Myonix. È tutto sull'attività di craftsmanship. Ragazzi, questo coltello ruborizzato nero sembra semplice e sento non dormito e caldo. Nella parte lì c'è un supporto di gioco in strada che rende l'occhio super facile, senza perdere l'occhio. La forma del Castor è incredibile. Dopodiché essere più piccoli che il mouse, la forma della parte lì c'è un supporto comforzato per il rinco e i piedi pinchi. Questo permette il mouse di essere sbagliato per qualsiasi tipo di gioco. È buono per la gioco di gioco, la gioco di gioco, la gioco di gioco e la gioco di gioco. L'occhio che Myonix mette nel formaggio del controllo risulta nel mouse di gioco più confortabile per i gioco di gioco di gioco. Si pesa 141.5 grammi, e la gioco di gioco di gioco di gioco, la gioco di gioco di gioco di gioco. Ora parliamo dei piaccia di gioco. Il Castor ha un'acqua di gioco di gioco di gioco di gioco, che ciclano tra tre settimane, infatti senza indicatore visuale. Il piaccia di gioco è accaduto con stessi di gioco di gioco. Nella lefta ha due bottoni con clicchi satisfici. Il Castor ha non solo una ergonomica di gioco, ma anche un traccio superbe. Il bottom è dove la magica succede. Troviamo un sensor di PIXART optico, il PWM 3310 IR LED, che può essere aggiustato da 50 a 10.000 dpi. In addition to the raw numbers, it shines to be completely acceleration free. The Castor provides a fantastic gaming experience. It's super reactive and very very accurate. Absolutely ideal for first person shooter. It makes each gaming session more fun and easier. Last time the software, it's simple to navigate and allows you to rapidamente impostare il tuo mouse in modo che vuoi. Nella prima scena puoi rimapare tutti i 6 punti, selezionare la rata di poling, la velocità di doppio clic, la velocità di scelta e la accelerazione di pochettura. Under la performance sensore hai tre step dpi che puoi impostare come preferite, la velocità di pochettura e puoi impostare la distanza di lieve per migliorare il tuo stile di gioco. Nell'altra parte l'analizzer di qualità di superficie di superficie ti dà la qualità della superficie di gioco. Under la settimana colori puoi controllare la zona di 2 led del sistema di luogo aurora, puoi chiuscire un colore solid, un effetto di scelta, pulsante, un effetto di pulsante o un effetto di respirazione. Nell'ultimo abbiamo le settimane macro e il tavolo di supporto. Priciati a 69$ con fantastica ergonomica, superba performance di traccia e customizzazione di l'alto di francky labs golden award. Grazie molto per aver guardato ragazzi, se ti piacerebbe un pulito, commento e share. rendete sicuro di subito e di seguire per altri contenuti di gioco e ci vedremo nel prossimo video! Grazie! Grazie! Grazie!